L'emergenza idrica non si arresta nei comuni irpini e i disservizi sono ancora all'ordine del giorno, ma il presidente dell'Alto Calore, Lello De Stefano, ha rassicurato che dal 10 luglio l'emergenza dovrebbe terminare in maniera definitiva, anche perché la pompa di sollevamento che crea continui disservizi sta per essere aggiustata definitivamente per il guasto individuato e così che dovrebbe tornare a funzionare completamente rifatta dal 10 luglio, potendo immettere 120-130 litri d'acqua in più al secondo, i 30 che attualmente non sono utilizzati dall'attuale impianto, che è meno potente, e i 90-100 litri che con le strutture in uso si potranno sfruttare dalla maggiore dotazione idrica su Cassano. Il vice governatore della Campania Bonavitacola ha assicurato inoltre che dopo l'incontro con il presidente della Regione Puglia, Emiliano, tutto scorrerà più celermente. Anche la situazione di criticità a Creta d'Ariano Irpino dovrà essere risolta con il reperimento dei finanziamenti, ma purtroppo la questione resta ancora in alto mare, nonostante si lavora costantemente per reperire risorse economiche da impiegare in tutte quelle aree che mettono a rischio il servizio idrico che ogni giorno mette in ginocchio intere famiglie. Ma noi abbiamo, Ariano è l'esempio più palese, ma come lo sono anche le altre condotte adduttrici, reti non sostituite da 50 anni, quindi che hanno passato la loro vita utile e che sono un dramma nel dramma. Inoltre, Ariano vive per esempio la vicenda Creta. Ecco, qui c'è un rimpallo di responsabilità che non fa onore a nessuno. Noi veniamo da una riunione in prefettura dove con precisione è stato detto che nonostante c'era la querelle di chi è la proprietà della condotta, noi abbiamo detto che per quanto ci costano tutte le riparazioni siamo disponibili nell'immediato a sostituire a spese dell'alto calore la condotta. L'impegno però del Comune e della Regione era di sistemare l'alloggiamento. Mi sembra che il Comune di Ariano non abbia il danaro sufficiente per realizzare l'alloggiamento, il cui impegno è stato preso lì e che ci sia un tentativo di far finanziare tutto questo dalla Regione. Tutto questo nel momento in cui si realizza l'alto calore nel giro di una settimana, ma anche meno, anche tre giorni, è disponibile nell'immediato alla sostituzione dell'intero tratto di condotta. È un momento drammatico per tutti, noi per primi, quindi il nostro sforzo è diretto a dare l'acqua ovviamente sempre e tutto questo sconta però disastri che vengono da lontano. È ovvio che c'è da parte nostra l'impegno è massimo, crediamo che tutto quello che abbiamo pianificato dovremmo averlo entro la prima decade di luglio, tutto quello che tocca all'alto calore. Ovviamente poi ci sono le altre istituzioni, credo che la cosa più inutile sia inseguire o una caccia alle streghe o fare strumentalizzazioni politiche sulla pelle dei cittadini. Non c'è bisogno di tutto ciò, c'è bisogno di assicurare il miglior servizio e questo si ottiene solo se c'è il grande raccordo tra tutti i soggetti coinvolti. Lo abbiamo dimostrato rispetto alla Puglia quando era la Regione, l'ente idrico campano, l'alto calore, tutti dalla stessa parte abbiamo fronteggiato e risolto una partita che non si risolveva, si può dire, da quasi un secolo.